Ieri pomeriggio per tutta la notte, oggi continuiamo i lavori, in due ore è piovuto il mondo perché 125 mm di acqua in due ore è una cosa che non è mai esistita nella storia di Abano Terme. Abbiamo avuto molte criticità sia sulla viabilità e sia su parcheggi sotterrani interrati. Un lavoro senza sosta con l'acqua che invade strade, dagli alberghi, negozi, case che diventa un nemico inarrestabile. Le 18 di mercoledì il momento più critico del nubifragio con il pensiero agli anziani soli e in difficoltà. In campo tutta l'amministrazione e la polizia locale con il vigile Simone che si tuffa in acqua per salvare un anziano intrappolato nella sua auto nel sottopasso di Giarre, la protezione civile e i vigili del fuoco. Le strade sono state liberate, il lavoro continua, tutti pensano ai danni. Ho parlato con l'assessore regionale Bottaci e gli ho preannunciato l'invio della comunicazione dello stato di crisi per consentire poi a tutti, cittadini, imprenditori, hotel che hanno avuto danni, di poterli poi recuperare. Ringrazio tutti i gruppi che sono arrivati anche da fuori città, i gruppi di tutta la provincia di Padova, coordinati dalla protezione civile e provinciale. Stiamo ancora lavorando, abbiamo lavorato tutta la notte e finché non finiamo non smettiamo. Un evento inaspettato in un territorio che si rivela sempre più fragile. Veneto, l'Italia ha bisogno di opere infrastrutturali importantissime, bacini di laminazione che sono infrastrutture che devono essere realizzate. Noi col consorzio di bonifica ne abbiamo prevista una per i prossimi anni vicino al ponte della fabbrica, un bacino di laminazione. Ma è evidente che questi investimenti sulla sicurezza idraulica del paese vanno fatti perché i comuni non possono essere lasciati soli.